E' ricominciata l'area delle sagre che rende famosa e bella soprattutto la parte collinare di Vichequenze. Qua siamo a Stamaria del Castello. Allora, l'associazione della Punta del Vento. Dove sta? Eccola la vicepresidente, va bene. Però vediamo qua che fanno il vino. Allora, questa è la seconda edizione, non sbaglio. La terza. La terza edizione, ecco qua. Devo farvi complimenti per l'organizzazione perché sono i parcheggi ben sistemati all'esterno, all'interno appena si arriva. E come si svolge? Chi cucina? Teniamo lo chef, i cuochi. Chi è lo chef? Ludovico D'Urso. Ludovico D'Urso, bravo. E poi ci sta tutto uno staff. Lo staff dell'associazione La Punta del Vento. Poi c'è il vino che è buono qua. Sì, vino proprio casareggio. Il vino casareggio. E qui in zona Maria Castello si sta riprendendo. Ma anche il turismo è tornato, non è il caffello. Ci stanno anche attività. L'ho chiamata. Eccola là, va bene. Allora, noi continuiamoci un altro po' di video così. Complimenti a tutte le ragazze belle, giovani e volenterose. Brave. Di qua ci stanno tutte le ragazze che ho organizzato per i panini. Anche le ragazze per i panini, da Positano News. Complimenti. Dove sta lo chef? Lo chef. Chef, complimenti. Ciao, ciao. Come sta andando? Le graffe. Eh, ma le graffe sono assaggiate. Complimenti a tutte. Eccola là. Complimenti. E poi di qua ci stanno anche... Ecco. Quanti giovani, guarda. Eh, ma la graffe a qua ce la prendiamo. Complimenti. Complimenti. Brave, brave tutte. Brave. Positano News, grazie. Ah, ecco qua. E qua le graffe si vuole. La graffe a Positano News, no? Sì. E poi ci sarà pure la musica. Sì, spiegaci. Sì, la teniamo. I guai notte. I guai di notte. Ah, no, i guai di notte. No, i guai di notte. I guai di notte vi è avuto per due anni. Ma basta, è vero? Allora, ragazzi, basta con i guai di notte. Mandiamoci con i guai di notte. Complimenti a Stamina Castello per questa bella, bella sagra. E che sia lungo e di successo.